Dall'area stile On Air dell'Hotel Royal di Sanremo sono qui con Prato, ciao benvenuto Ciao Quest'anno ci proponi il brano Chanel numero 5, perché? Chanel numero 5? Badalmente perché è la mia ultima uscita, io pubblico un brano ogni due mesi sono tutti diversi fra di loro e questo è il mio ultimo Di che parla? Parla, è un grido contro tutte le convinzioni sociali, cioè bisogna fare per forza così bisogna per forza sposarsi, bisogna per forza avere dei bambini se dopo non li vuoi, non li segui allora ero un po' arrabbiato, ho scritto questo brano, gli ho dato una matrice abbastanza rock e eccolo là Bene, lo utilizzerò sappilo perché da quando mi sono sposata la domanda è sempre quella quando mi viva perché è obbligatorio, ok, detto ciò Emozioni di questo festival? Cioè come lo stai vivendo, stando proprio nella città dei fiori? Sono già stato qui come musicista con Giuseppe Anastasi nel primo suo album abbiamo suonato proprio all'Ariston perché ha vinto il premio Tenko per migliore opera prima comunque ho avuto già il piacere di stare in questa città, è sempre bello e emozionante Perfetto, allora noi ti auguriamo il meglio della tua carriera, grazie di essere stato con noi Grazie a voi